San Micele Arcangelo a Luz de Maria. Lottate contro il demonio, che con la guerra, sta per conquistare il mondo. Nel cuore di ogni credente risiede un richiamo divino, una chiamata alla fede e alla consapevolezza della propria identità come figli del Re e Signore Gesù Cristo. Come principe della milizia celeste, San Micele Arcangelo si rivolge a noi con un messaggio di speranza e saggezza, invocando l'importanza di nutrire la fede attraverso la pratica della Sacra Scrittura, l'amore per il prossimo e l'osservanza dei sacramenti. Tuttavia, in questo mondo segnato dall'egoismo e dall'orgoglio, la nostra battaglia spirituale è più intensa che mai. Bisogna combattere contro le insidie del demonio. Leggiamo il messaggio Amati figli del nostro Re e Signore Gesù Cristo, come principe della milizia celeste vengo a voi per comando divino. Siete figli della Santa Trinità e della nostra Regina e Madre. Nutrite la fede essendo operatori della volontà di Dio, ricevendo il nostro Re e Signore nel sacramento della Santa Eucaristia. Nutrire la fede con la pratica della Sacra Scrittura, con l'amore per i fratelli, con il compimento dei sacramenti e di tutte le opere di misericordia, con la lettura dei libri dei padri della Chiesa. Lottate per smantellare l'egoismo. Vi porta a guardare solo a voi stessi e a farvi credere che tutto ciò che esiste è per voi. L'egoismo vi porta a cadere nell'orgoglio. Lottate contro il demonio che con la guerra sta per conquistare il mondo. Ci sono tante persone orgogliose che non guardano a se stesse e continuano a esserlo ogni momento di più, pensando di meritare tutto, e quando si guarderanno, l'egoismo avrà causato loro la lebra spirituale. In questo momento le creature umane spirituali sono carenti. Manca la verità. Manca l'umiltà e manca la giusta conoscenza del nostro Re e Signore Gesù Cristo, tanto che sono disposte a smettere di cercare vie sbagliate, perché desiderano conoscere meglio il nostro Re e Signore Gesù Cristo. Re e Signore Gesù Cristo